Buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova edizione di TR24 Sport. Non conosce limiti la marcia di Ravenna nella post-season. La squadra di coach Martino ha espugnato anche il parquet di Verona per 73-76, chiudendo per 3-0 la serie contro gli scaligeri e guadagnandosi l'accesso alle semifinali play-off. Eppure le premesse sembravano tutt'altro che positive per i giallorossi, costretti ancora una volta a rinunciare al contributo di Derek Marks, ma protagonisti dell'ennesima prestazione da grande squadra con Sabatini best scorer con 23 punti ed un Taylor Smith in doppia-doppia da 20 punti e 12 rimbalzi. Ora Ravenna tende di conoscere il nome della propria avversaria della serie tra Virtus Bologna e Roseto con i felsinei al momento avanti sul 2-1. Intanto anche Forlì festeggia grazie al 91-75 rifilato ieri sera a Chieti che ha portato la serie sul 2-1. Domani i biancorossi potranno chiudere i conti nella sfida del parafiera Il Servizio. Gol dell'Uni Euro Forlì che supera di slancio Chieti in gara 3 procurandosi il match point più importante di tutta la stagione. Quello che i biancorossi si giocheranno nella decisiva gara 4 del Palagalassi, quando la squadra di Corcevalli potrebbe raggiungere la salvezza in A2 oppure, ipotesi da scongiurare, rimandare tutti i discorsi all'ultimo capitolo della serie. Abbiamo vinto solo un primo tempo, il secondo tempo bisogna giocare a domenica. Per fare qualcosa di veramente serio dobbiamo vincere la partita di domenica. Siamo stati un po' soft in gara 2, siamo stati molto soft nei primi due quarti e qua in casa nostra mettiamoci anche una parte di paura, ci sta voglio dire, non siamo macchine. Però la nostra identità è quella di difendere a muso duro, faccia a faccia, senza tanti ricami. La squadra è venuta fuori nel terzo quarto ma non è sufficiente perché non mi fido di una squadra che ha tanti tiratori, che probabilmente recupererà l'Allegretti, che sicuramente avrà un Golden che ispirerà tutti gli altri compagni. E quindi sarà una partita da prendere non con le pinze ma veramente con i guanti perché basta, si è visto anche nel finale, basta che per un attimo perdiamo la concentrazione, perdiamo il filo, perdiamo il ritmo, non siamo più la squadra che dovremmo essere. Invece domenica dobbiamo fare un secondo tempo, lo ripeto, un secondo tempo perché oggi non abbiamo fatto niente, che sia come vogliamo noi. Passiamo ora sul nostro portale tr24.it con una notizia di tennis. Questa volta la grande rimonta non si è concretizzata per Sarerrani che ha dovuto cedere le armi nei quarti di finale del torneo di doppio agli internazionali d'Italia. La Ravennate che scendeva in campo in coppia con Martina Trevisan è stata sorpresa dal più consolidato duo composto dall'indiana Mirza e dalla Kazakka Svedova. Un match durato un set o poco più quello che le azzurre hanno passato a rincorrere le proprie avversarie prima di capitolare sul 6-4. Nel secondo parziale invece non c'è più stata partita e Mirza e Svedova hanno affonato il colpo sul 6-1. Passiamo ora al calcio, una serata indimenticabile è stata Cesena, è la Sverona per i debuttanti Lorenzo Bardini e Franklin Akamadu. Sentiamo le prime impressioni dei bianconeri che non hanno per nulla sfigurato. Penso che il contesto stasera sia stato fantastico, esordire davanti a questo pubblico in una partita così delicata per gli avversari e noi comunque dovevamo cercare di far bene, è stata la ciliegina sulla torta. Ho fatto la partita che dovevo fare e insieme ai compagni siamo riusciti a non prendere gol, sono stati bravissimi loro e io ho cercato di dare una mano. È stato un anno comunque pesante perché allenandosi tutti i giorni, sapendo che la domenica poi alla fine sareste andato in tribuna in panchina, è stato un anno particolare ma venendo qua a Cesena ero consapevole di questo e sono andato qua appunto per migliorare e per crescere e sono arrivato a fine stagione che stavo bene e quindi il mister e lo staff hanno deciso di darmi un'opportunità. Innanzitutto ringrazio la mia squadra della primavera, anche della prima squadra che in questa stagione mi hanno aiutato molto, soprattutto non avrei realizzato così tanti gol in primavera, ringrazio loro e ringrazio i miei compagni della prima squadra che mi hanno aiutato in tutte quelle volte che sono andato e ringrazio per avermi aiutato per questo debutto qui. È stata una cosa indescrivibile, una cosa che ho sempre sognato e oggi si è realizzato e non ho parole per descrivere. Stefano Tacconi ha spento le 60 candeline a Ravenna con una immancabile amichevole tra vecchie glorie. Tantissimi amici e buon calcio si sono visti ieri allo stadio Benelli, il servizio. Il regalo più bello per i 60 anni di Stefano Tacconi, oltre ad una maglia a quadro old style in resina, è stato l'aiuto offerto ai terremotati di Amatrice, Montegallo e Arquata. I proventi realizzati dal match amichevole tra Tacconi-Frienz in maglia juventina e Club Italia, vinto dalla squadra blu trascinata da Rizzitelli per 5-1, sono stati devoluti in beneficenza. In campo i protagonisti non hanno sfigurato in memoria del passato. La forma di formaggio, adesso devo andare a prendere i nauli nello spogliatoio, però credo che l'importante sia quello che abbiamo fatto, i miei amici che sono venuti, credo che questa è la cosa più bella. Non solo gli amici ma anche tantissimo pubblico questa sera qua al Benelli di Ravenna. Pensavo di più, però l'importante è che queste che ci sono bastano e avanzano. A fine della partita la torta con le candeline si sarà? A fine della partita attacco questi e poi secondo me non smetto di giocare. Passiamo ora a visionare i principali quotidiani locali sportivi. Incominciamo dal Corriere di Romagna. In apertura c'è il basket serie A2, ora sì in semifinale 1 euro alla grande. Serata di gloria per la Romagna. Ravenna sbanca a Verona e chiude la serie sul 3-0. Forlì dilaga e va sul 2-1 con Chieti. In spalla calcio serie D, Rimini rinnovano Brighi e Valeriani. In arrivo il tecnico Muccioli. Motociclismo, rischio pioggia alle mani. Dovizioso ha tardato. Ricordiamo poco fa insieme al compagno di squadra Lorenzo è caduto. Fortunatamente non si sono fatti nulla entrambi. Ciclismo domani alle 6 al via la 47esima edizione della Nove Colli. Mentre nel taglio alto spazio al calcio serie B Lugaresi non si vuole sbotonare su Foschi, Budget e Camplone. Andiamo avanti, passiamo ora al resto del Carlino. Sempre l'inserto sportivo in prima pagina. Sogno Juve, Incubo, Inter. I bianconeri alla vigilia della partita Scudetto. Massimo Mauro, la signora vincerà senza difficoltà. Tra i nerazzurri scopre il caso Ausilio dopo l'audio rubato. i possibili scenari in spalla. MotoGP, oggi la pole, Le Mans e nuvole rossi non si fida. Qui sono in molti ad andare forte. Mentre per il tennis e gli internazionali d'Italia. Roma perde altre due stelle fuori Rafa Nadal e Venus Williams. Nel taglio alto rimaniamo sempre nel resto del Carlino. Giro d'Italia, il colombiano vince anche a Tortona. Uragano, Gaviria, sua la quarta tappa in volata. E ora andiamo ad ascoltare l'opinione di Luziano Poggi. E' certo che ancora una volta, se vogliamo, chi cerca di fare previsioni o di immaginare quale può essere la fine di un campionato, come può finire, per meglio dire, un campionato di calcio, ancora una volta, dicevo, è smentito. Perché? Perché si diceva che la Juventus avrebbe vinto lo Scudetto con diverse giornate di anticipo rispetto alla chiusura del campionato. Invece siamo ad appena 180 minuti dal termine di questo avvincente torneo. E ancora, dichiaro, c'è ben poco. C'è poco in zona retrocessione, anche perché il Crotone, con una espluata che ormai dura da più di tre mesi, è riuscito ad agguantare le due, che sembravano due lepri irraggiungibili, il Genoa e l'Empoli. Ma in vetta alla classifica c'è ancora in palio un posto in Europa League, c'è ancora una volta tanta incertezza per quel che riguarda la seconda di Champions e c'è ancora tanta incertezza per quel che riguarda lo Scudetto. C'è forse per qualcuno. Io sono convinto che ogni discorso la Juventus lo chiuderà proprio domani. Termina qui questa edizione di TR24 Sport. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento di giornata sui canali di Teleromagna.